Sono loro, medici senza frontiere, alcuni dei protagonisti dei salvataggi in mare delle migliaia di migranti che ogni anno tentano di attraversare il canale di Sicilia. Da anni ormai l'organizzazione medico-umanitaria opera sul campo, soprattutto in tema di migrazione. La priorità è quella di trovare delle vie sicure che non costrengano più le persone a prendere il mare. Perché abbiamo visto anche con i soccorsi messi in atto sia della comunità europea sia da organizzazioni indipendenti come la nostra le persone purtroppo continuano a morire, anche in tanti. Sono tre le navi di medici senza frontiere impegnate nel soccorso dei migranti, ma il loro aiuto non si limita a questo. Offrono infatti cure mediche, assistenza psicologica oltre che alla logistica per gli operatori umanitari. Per questo il Comune di Palermo ha consegnato la cittadinanza onoraria all'organizzazione che dal 1971 opera nelle diverse parti del mondo a sostegno delle popolazioni che vivono condizioni di fragilità. Lo stesso riconoscimento abbiamo anche assegnato alla Guardia Costiera, che è una realtà istituzionale del nostro Paese che svolge un'opera a parimenti meritori. Ecco la ragione per la quale essere qui è un modo per dire grazie e per mandare un messaggio. all'Europa e al mondo che la smetta di essere complice di questo meccanismo perverso che mette insieme interessi egoistici, presunta ragione di sicurezza ed affari inconfessabili e criminali. Grazie. 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 Grazie.